Un bel saluto a tutti i cinti! Vedasone il benvenuto a una nuova puntata di Rafa San Kurt, la neve di questa settimana. La scuola ladina di Fassa mette a girare i corsi dell'engazzo ladino per tutti chi vuole imparare dal vers a resognare, scrivere e leggere per ladino. El c'è per s'ingegnera a fare esame di certamento della conoscenza del ladino, a già che tiposti dell'urier pubblico le prevedono la precedenza. Il primo modulo di 40 ore per ladino comincia il lunedì ai 12 di gennaio e vennerà a fare vigni lunedì e vigni sebbia dalle 8 alle 10 da sera. Invece per il ladino sarà di 30 ore e comincia a mertes ai 13 di gennaio e vennerà a fare vigni mertes e vigni sebbia dalle 8 alle 10 da sera per 2 ore. Per poter s'insinuire al modulo 2 si connerà a fare un test d'entrida. Si potrà s'insinuire tant che si è fuori il set di gennaio lo della scuola ladina di Fassa a Pozza. Venta usurre le iscrizioni finché si arriva al numero massimal di chi ne partecipano. Per informazioni si auserà la dottora Francesca de Gasper. Il test dell'urier della risola ha guardato fuori i progetti maneggiati per l'anno di mille chi ne è la deceduta di mettere a girare il set. 2 ha l'obiettivo di inviare via i giorni al mondo dell'urier, con che la DGFR conoscere in questi bisogni e scheleti Fassa. Mi sento utile e vennerà a portadante e iniziando parlando i mille chi ne è, a che gli è in passato, la buon e un buon esit. Progetto di giorni anticrisi 2.0 e voglio rispondere al bisogno delle figure professionelle per il benvenuto e la comunicazione che ha palesato i hotelieri e i comitati manifestazioni di Fassa, ma anche l'Istituto Cultural Ladin. Se farà dunque un progetto di formazione e pratica dell'urier, ho la che i giorni poterà imparare a mettere a girare questa neva proponetta. E' stracchissi i progetti che punterà via fuori per l'anno le mobilità, ambiente e turismo. Progetto portandone da Massimo Girardi, che è presidente dell'Associazione Tras Dolomites, che vuole portandone ai giorni la questione della mobilità, tra scontri e resides e viaggi, per vedere cosa che fanno fuori questa questione fuori di qua. A Pé do la Granvera, progetto portandone da Michele Carpano. Troppa le scommensative che risonano da Granvera, dannano in Cà, che è a buon conto e vuole far vivere una esperienza trasnare da Tiles o la che la storia ha la Salsen. Per terapia, il Piavia consiglia seconda edizione, anche che sta nel progetto portandone da Alessia e Elena a un buon esit. Per il 2015, l'argomento che vennerà a trattare sarà il viaggio della vita da noi stessi, il giro di mezzo utro e il viaggio dell'immaginazione fantastica e creativa. Il Festival della gioventù della Valeria Sladine, è il viaggio di portare a Dante un percorso che metta due mesi di gioia di Sladine in Cibin, che sta e va al desferente. Il Festival, addirizzato nel 2013 a Corvara e che stanno passando a Ortisei, ha quella di fare musica, di collaborare per fare scegliere insieme e tenere su nostra identità laddina. Bisogna Danini, con l'associazione di gioie di Moena, il coordinare i luoghiere, maierà di base di due gioie in faccini per addirizzare il Festival. Ince la scuola ha portato a Dante un progetto che vuole traslare la musica, mettere all'ustre competenze e conoscenze che va fuori di quello che si poteva imparare a scuola. Che sprogetta il perveito in percorso di formazione, tra quel che i gioie hanno realmente del settore suo la responsabilità di indrezzarla per la centena di Cendresina per fare scegliere. Ma non manca venire a fuori gli avvisi di progetto, potrebbe trovare le informazioni sulla piatta della risola e nella sezione neve del Comune General di Fassa, perché i 2.000 chinesi del piano di gioie della risola avrà una neve referente, Susanna Gandini. I migliori auguri di un buon 2.000 chines di sanità e fiducia da Pertmia e da Dutel Comune General di Fassa. Deve il paio di una scuola su in c'è questa settimana, alla settimana che viene.